La luce come strumento di progettazione Ci interessa una vostra battuta sulla luce come strumento di progettazione. Molto interessante, tutti ne parlano, tutti la usano, secondo noi un po' a volte a sproposito. La luce serve per definire lo spazio, forse era bello che si ritornasse a definire gli spazi. Spesso gli edifici sono dei grandi scatoloni entro i quali entra la luce, ma poi la capacità di trasformare in architetture che lavorano sullo spazio è molto difficile. Ci sono architetti che hanno usato la luce in maniera poetica. Noi ci proviamo in alcuni edifici a seguire l'insegnamento di alcuni grandi maestri per una di noi. È vero che nel corso del tempo ha perso un po' quel suo fascino di definire proprio gli spazi. Forse se tornassimo a una luce un po' meno controllata, ma più se stessa, più in grado di definire proprio la forma degli spazi, forse ci guadagnerebbero le nostre architetture.